E quindi ormai lo sai anche tu, gli schemi sono essenziali per uno studio davvero efficace ed efficiente. Te lo hanno detto tutti, ti hanno detto che devi schematizzare, che a seconda dell'argomento ci vogliono gli schemi a cascata, lineari, a flusso, le mappe mentali, le mappe concettuali, gli schemi complementari, i diagrammi, le tabelle, i grafici. Va bene, va bene, ok, lo abbiamo capito. Il problema è che nessuno ti ha mai detto esattamente come li devi realizzare, come si costruisce uno schema davvero perfetto, su quali principi si regge, come funziona, come adattarlo a quello che studi e al tuo modo di ragionare. Nessuno si è mai messo lì e carta e penna alla mano ti ha mostrato ogni dettaglio, ogni piccola sfumatura, finora. Schematizzare significa rielaborare, approfondire, sintetizzare, trasformarsi da un contenitore di informazioni a un produttore di informazioni. Potenzierà drasticamente il tuo modo di studiare, accrescerà i tuoi risultati in esami, test e concorsi, ti renderà uno studente più rapido e soprattutto migliore. Ti presento Conquistare il Foglio, il videocorso che trasformerà per sempre quello che sai sugli schemi e ti accompagnerà passo dopo passo nel percorso per impadronirti dei principi su cui poggia una schematizzazione impeccabile e poi di ogni stile di schematizzazione. Sì perché in Conquistare il Foglio non ti insegnerò solo un tipo di schema, te li insegnerò tutti. Ti insegnerò come scegliere lo stile perfetto per ciò che stai studiando, come personalizzarlo e adattarlo al tuo modo di ragionare e di studiare. Ogni passaggio sarà dettagliato con un livello di precisione maniacale e corredato di casi studio, analisi, esercizi, esempi, il tutto girato in qualità video 4k che male non fa. Ah e a proposito non è un trucchetto, una di quelle classiche promesse troppo belle per essere vere tipo prepara 20 esami a sessione o studia 3000 pagine al giorno, di quelle ne hai già sentite abbastanza. Qui non parliamo di fuffa, pseudoscienze, bacchette magiche, voodoo, metodi misteriosi per fregare il sistema, parliamo di qualcosa di serio, provato, scientifico, di qualità. Le cacchiate le lasciamo a qualcun altro e quindi se cerchi la scorciatoia questo non è il corso che fa per te. Punto. Se invece studi e vuoi fare un salto di qualità reale, tangibile, vuoi finalmente smetterla di incastrarti su leggi e ripeti, su infiniti riassunti, sulla riscrittura e vuoi imparare a schematizzare in maniera fenomenale ed efficace, non puoi fartelo scappare. Conquistare il foglio è un modulo del mio corso completo sul metodo di studio sistema ADC ma è pensato per essere fruibile anche in modo completamente autonomo. E parliamo un secondo di prezzo, per qualche strano motivo su internet sembra che tutti vogliano nasconderti quanto costano i loro prodotti. Io invece te lo dico chiaramente, conquistare il foglio costa 200 euro, non 199, non 197, niente virgole e decimali strani. 200 euro. Inoltre, se dopo averlo finito tu volessi completare il percorso e scoprire l'intero sistema ADC, quei 200 euro ti vorranno scontati dal prezzo del corso completo. Chiaro e semplice. Trovi qui sotto il link alla pagina di presentazione del corso con tutti i dettagli, ma per qualsiasi domanda o dubbio non farti problemi a scrivermi, commentare qui sotto, mandarmi una mail, ti risponderò volentieri. Spero di vederti presto in Conquistare il Foglio all'interno della fortezza dello studio di Sistema DC. Ci vediamo lì.